ciao amici io e teo il mio cucciolo che guardatelo bene rimarrà cucciolo ancora per un po poi diventerà cane enorme ma adesso bellissimo un peluche io e teo volevamo ringraziarvi perché il canale di youtube ha raggiunto i 150 mila iscritti vero teo ed è stato lui che mi ha portato tanta fortuna sono sicura e quindi continuate a seguirmi continuate anche a seguire teo in realtà inizieremo a fare qualche video insieme aiuto quindi volevamo ringraziarvi ancora e mi raccomando seguitemi anche sui social instagram e facebook così facciamo crescere la pagina le pagine e chissà che teo non sia sempre più presente così lo vedete più spesso e seguite anche la sua crescita di questo gigantone meraviglioso ciao a tutti grazie ancora ciao bye bye io e teo volevamo ringraziarvi